Siete riusciti a riprenderla proprio nel finale, per come è arrivato a questo punto considerate un successo il pareggio o puntavate comunque la vittoria? Un'ottima successo perché noi quest'anno siamo in difficoltà, Adotti mi ha richiamato come giocatore, sono onorato di stare con i ragazzi e fortunatamente che a Mazzone insieme siamo imbattuti, come diciamo di lui. Siamo, abbiamo vinto contro la San Paolo, oggi potremmo anche vincere, partita vincita l'episodio in ambo le parti, però il calcio è questo, è stato stupendo, loro erano molto forti, si sapeva, e noi abbiamo fatto una partita di grande qualità, ci è mancato un po' il gol e poi errori in prima parte di tutti quanti, quindi anche io ho stato il pregio sottoporta, però dopo sei mesi ho fatto 39 livelli. No, c'è da dire che l'ingresso di Carlo ci ha dato quella profondità che ci è mancata, mancano uno scartelli che per noi è importante. Il gol di Carlucci nasce da un suo movimento per liberare proprio il tiro di Gabriele, quindi il merito del gol di Gabriele e di Carlucci è di Carlo. Noi Mazzone, Mazzone ci ha fatto gol e lui, siamo contenti per la partita, e poi a questo punto noi cerchiamo di salvarci questo anno, perché ti vuoi essere una salvezza tranquilla e punteremo con la pensione finale di Coppa Italia, l'hanno portato adotti addirittura in un'altra finale, sarebbe lo stupendo. Ma al calcio c'è il Marching che sta in vacanza, quindi con Scardelli non c'è lui, nemmeno lui, quindi noi... Stato da neve a Mosca.